Calendario, 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 amore e preoccupazione che ci ha fatto faticare oltre che a me soprattutto la Camera della Moda nella persona del direttore Giulia Pirovano e della Francesca Ferrari che sono le vittime di queste situazioni e che però hanno gestito devo dire con vigore ottenendo un risultato che io definisco buono, direi molto buono nonostante tutto quindi sottolineo buono, molto buono, nonostante tutto. Nonostante tutto è legato alla complessità crescente nel fare queste benedette settimane della moda. Milano Moda Donna e io ne ho avuto la prova nei due o tre giorni che essendo il direttore di una missione di lavoro ad Abu Dhabi per gli impegni contrattuali presi, mi sono trovato solo con la Francesca Ferrari, devo dire ho avuto la possibilità di toccare con mano di tutto di più, anche alcune telefonate di una violenza, di un'arroganza, di una scortesia che non avrei mai pensato di ricevere però insomma fa parte un po' dell'esperienza, un po' di quell'individualismo che dicevi tu poi per carità si giustifica tutto, momenti di nervosismo, di tensa, la piccola parentesi polemica parliamo invece di tutte le cose buone. Le cose buone, allora una cosa buona va detta è che Armani ha deciso di partire di domenica, questo ha permesso di riequilibrare un po' le cose perché diciamo che il sabato e poi lo diremo anche più in particolare è un gran bel giorno per i giovani che si presentano nell'ambito di next generation new and coming designer di intorno quindi il sabato è una bella giornata, le giornate forti iniziano da domenica e vanno avanti fino a venerdì e sabato e venerdì e sabato abbiamo delle grandissime, importanti, novità delle quali io devo parlare un attimo più dei numeri e poi parliamo della qualità dei numeri. Totale collezioni 221, 103 sfilate per 95 marchi quindi i marchi sono in crescita rispetto all'ultima volta, 47 marchi sfilano nel Milano Fashion Center 48 marchi sfilano in esterno, ci sono 8 sfilate doppie però grande novità, grande novità le abbiamo separate cioè le sfilate doppie hanno un'indicazione precisa se buyer o stampa questa è stata una grande conquista per cercare di compensare un grande problema che noi abbiamo che per esempio Parigi non ha e cioè quello delle doppie sfilate vi faccio riflettere, 8 doppie sfilate sono un giorno, cioè se noi non facessimo le doppie sfilate avremmo 8 posizioni in più, ecco non è cosa da poco. Poi abbiamo 84 presentazioni per 75 marchi e 51 presentazioni su appuntamento. Questi sono i dati quantitativi che sono di tutto rispetto